Sono a casa di un amico qua che non vuole essere inquadrato perché non lo sè, non lo sè che gli passa. Stavamo parlando qua di questa prima malattia, la seconda malattia, questo virus che è arrivato adesso, eravamo in grazia del Signore che avevano aperto tutto qua, ma stanno sigillando tutto di nuovo. Torniamo a essere, non lo so che vi devo dire, non lo so, non lo so. Siamo disperse dal mondo, però guardate che bello sto posto, il campanario, guardate che bello il campanario. No? Purtroppo strutture che non c'è lavoro, tutte chiuse, sono poche famiglie che abitano qua dentro, ma è tutto sigillato, come lo si seduno, si darà un'idea, sarà sigillato anche lì. Che vi devo dire? Purtroppo la seconda malattia c'è, vediamo che passerà, il campanario. Vedete che bello? Questo si chiama il palpagaio. Sì. Va bene, ero allegro che forse si tornava a lavorare, ma non è così. Torniamo ad essere ancora disoccupati, purtroppo. Che dovevo fare? È così. Bello è sto posto, vi piace? Ciao baby!